In questo video voglio farvi vedere una cosa veramente bella che si sta sviluppando sul mondo blockchain ma coinvolgerà un po' tutto il mondo del web. Infatti voglio subito partire con una dimostrazione. Aprendo una nuova scheda, qui sono su Chrome, solitamente uso Brave, ma per questo servizio vi consiglio magari di utilizzare e di guardare tutto su Chrome, è più semplice. Allora scrivo tiziano.crypto, l'ho già cercato in precedenza, e vado su questo dominio qui, tiziano.crypto. E guardate qui, si apre un'estensione, praticamente grazie a questo plugin che ho installato su Chrome, sono in grado di accedere a questo dominio qui, con questa paginetta fatta con un template adesso molto molto semplice, ma già funzionante. Infatti questo è un link funzionante, se clicco vado sul mio canale YouTube. Breve caratteristica, uno sguardo, qui ci sono anche i link ai social, per esempio è un template fatto veramente in 5 minuti. Come funziona? Questo è Unstoppable Domains, è da un po' che volevo presentare questo tipo di servizio, sono riuscito a contattare direttamente il team, quindi posso annunciarvi che ho una collaborazione diretta, perché voglio seguire lo sviluppo di tutto quello che stanno facendo in modo diretto e riportarvi tutto in questo modo qui, veramente senza intermediari. Che cos'è Unstoppable Domains? Unstoppable Domains permette di comprare dei domini web e possederne proprio, averne il possesso, come se fossero dei token non fungibili, poi alla fine diventano questo, su il proprio wallet, nel proprio wallet. Quindi grazie al, io ad esempio questo dominio qui lo tengo direttamente all'interno del mio ledger, quindi nel mio ledger nano S io ho il mio dominio. Un concetto del tutto diverso da quello a cui siamo abituati, perché solitamente questi domini vengono posseduti da grandi provider, noi dobbiamo comprarne, quantomeno è più che un acquisto, è un affitto di quel dominio lì, dove va poi rinnovato, per chi ha dei siti saprà qual è la problematica. In questo caso i domini, questi domini blockchain, ossia i record di questo dominio vengono salvati direttamente su blockchain e noi ne diventiamo proprietari fin tanto che ne possediamo la chiave privata. È tutto molto molto semplice, qui vi sto spiegando l'aspetto più tecnico senza andare nel dettaglio. Per quanto riguarda invece tutti i contenuti che vengono caricati, come ad esempio quello che vi ho fatto vedere, adesso queste immagini caricate, il nome, tutte le cose che vengono caricate, quindi sul sito stesso, queste vengono caricate in IPFS, che è un sistema altrettanto decentralizzato per caricare tutti i vari contenuti online su web. Infatti vedete qui si connette e fa un redirect a CloudFair IPFS. Praticamente sia dominio che, quindi il dominio viene salvato su blockchain, in più tutti i contenuti vengono salvati in modo decentralizzato, si ha con questo il risultato di avere un sito web incensurabile. Cioè nessuno, nessun governo, nessuna società, nessuna compagnia può buttare giù questo sito. Mentre invece per tutti gli altri siti, se effettivamente uno a governo decidesse o desse istruzioni di fermare quel sito, questo sarebbe spento nel giro di pochi secondi. Invece qui, per questo, questi si chiamano unstoppable domains. In più legano il mondo classico del web a quello che è il mondo delle crypto. Secondo me è una grandissima rivoluzione, siamo ancora nella fase proprio primordiale, quindi volevo, ci tenevo a presentare questa cosa proprio in una fase così primordiale. Anche se questo servizio esiste da un po', qualcuno magari già lo conoscerà, ma parlando proprio con un discorso un po' più allargato, qui siamo veramente alla preistoria. Qual è il bello di essere nella preistoria? Che queste funzionalità avranno, secondo me, un successo enorme in futuro. Primo perché? Perché tutti vorranno diventare veramente i proprietari dei propri siti. Qui parliamo di decentralizzazione, come sempre, per tornare noi proprietari delle cose. E in più, con un dominio come questo, ad esempio quello che vi ho fatto vedere, tiziano.crypto, se qualcuno utilizza il suo wallet Ethereum per pagare a me, non c'è più bisogno che io dia il mio address con quei caratteri alfanumerici, ma basta che gli dica Guarda, pagami a tiziano.crypto ed oltre a essere un dominio diventa anche un address, un indirizzo leggibile e facilmente utilizzabile da noi esseri umani. Cosa fantastica, secondo me. Quindi unisce queste due cose. Il fatto di essere incensurabile come sito e la semplicità per ricevere pagamenti. Infatti, per ogni sito, vedete questo è il mio, questa è la mia dashboard, che è tiziano.crypto, abbiamo un wallet collegato che adesso vi sto coprendo giusto per privacy. Questo è il wallet che io ho collegato e ho nel mio Ledger Nano S. E in più si possono avere tanti altri indirizzi, tra i quali Bitcoin, Zillica, perché ci sono anche le estensioni .zil e LTC. E ne aggiungeranno altri, perché infatti si può anche andare ad aggiungere altre differenti currency. E al momento ce ne sono veramente tante, guardate qui. Quindi si possono aggiungere diversi indirizzi e con lo stesso dominio, quello di tiziano.crypto, si può avere direttamente il pagamento che verrà inserito sui vari indirizzi. Noi qui inseriamo gli indirizzi sui quali vogliamo pagare, ad esempio Bitcoin. Vogliamo ricevere un pagamento in Bitcoin. Invece di dare il nostro indirizzo pubblico, diciamo, guarda, nel tuo indirizzo, nel tuo wallet, quando devi inviare send, nella casella indirizzo a cui pagare, scrivi tiziano.crypto. In automatico il pagamento sarà ridirezionato al mio address che ho inserito qui. E lo stesso vale per tutte queste altre monete. Una cosa rivoluzionaria. Bene, io vi lascio comunque il riferimento. Trovate un mio link per quanto riguarda questo aspetto qui, se volete acquistare il vostro dominio. Perché potrebbe essere un vantaggio acquistare un dominio su Unstoppable Domains? Perché al momento è un po' come fare la corsa ai domini .com ai tempi che furono. Infatti ancora sono pochissimi coloro che hanno un dominio .crypto. Ce ne sono ancora tantissime a disposizione. Quindi un ripasso delle funzionalità. Possiamo sostituire quelli che sono gli indirizzi con un indirizzo leggibile. E poi abbiamo appunto un website, un sito web incensurabile. Al momento per utilizzare però questi siti per poterli visualizzare o si installa un'estensione su Chrome o si va su un browser apposito chiamato Unstoppable Browser. Che al momento è la cosa un po' più scomoda. Ma io prevedo già un'integrazione su diversi altri browser e so già che ci stanno lavorando. Qui sono tutte le FAQ. Che dirvi, se avete in mente qualcosa, ovviamente, che ne so, pensate a grandi siti. Ad esempio Italia.crypto. Cerchiamolo. Al momento Italia.crypto è protected, ovviamente. Però ci sono altri siti, ad esempio Italia.crypto, Italia.zil, MyItalia.crypto. Ed hanno un costo. Quindi se vi viene in mente qualche sito, qualche nome, qualche dominio, in questo caso non solo lo avrete pagando una volta, ma lo avrete per sempre. Quindi pagando una tantum lo avrete per sempre. In più, voglio dirvi un'altra cosa, loro collaborano con Crypto.com e pagando e comprando questi siti con CRO, come ho fatto io e come vi sto facendo vedere adesso, avete anche il 10% di cashback. Quindi si va direttamente su Pay with CRO. Ad esempio qui facciamo il caso io volessi pagare, volessi prendere MyItalia.crypto. Lo aggiungo al carrello. Vado sul mio carrello. E andando qui su Checkout, ho la selezione dei pagamenti. Posso pagare con la carta di credito, con Paypal e con Crypto, oppure con, quindi sia con Crypto tradizionali e tutte le altre, Bitcoin, LTC, quello che sia, oppure con la app di Crypto.com. Io l'ho comprato così, come vi ho fatto vedere. E ho ricevuto anche il 10% di cashback su quello che è stato il mio dominio, cioè tiziano.crypto. Questo è quanto da pagare. Ci sarà un QR code e da quello si potrà fare il pagamento molto semplice con l'app. Ci ho messo veramente 10 secondi e ho ricevuto subito il cashback, quindi ho pagato anche meno. Che dirvi, sbizzarritevi con questo perché adesso parte la ricerca per quei domini, quei nomi, quei domini più interessanti, per il quale magari facciamo un investimento, anche una scommessa verso il futuro. Se siete interessati, trovate il mio link direttamente qui sotto in descrizione per fare gli acquisti. È un modo per riconoscere il mio lavoro e per supportare questo canale, perché ovviamente ho una collaborazione, quindi ricevo una percentuale in base a quello che viene acquistato direttamente dal link. È un modo per me per non chiedere ulteriori donazioni o altre cose a questo canale, un modo per voi per supportare il canale e il fatto che vi faccia conoscere qualcosa di nuovo ogni tanto. Questa è una cosa che io seguo da un bel po' e secondo me buttateci un occhio perché è un qualcosa che potrebbe rivelarsi molto interessante, soprattutto in ottica futura. Ne parlerò comunque, ne continuerò a parlare, anche io sto prendendo qualche dominio, non spoilerò nulla, vi rilascerò poi gli aggiornamenti quando arriveranno. Anche perché stanno implementando, è già in via di ultimazione, una chat. Quindi ci sarà il modo di fare una chat incensurabile tra i vari domini. Quindi ad esempio tiziano.crypto io posso chattare con marco.crypto, se conosco un marco che ha comprato il suo dominio. Lo aggiungo in chat e potremo parlare direttamente peer-to-peer in modo criptato e incensurabile su una chat legata ai nostri domini. Quindi semplicità di pagamenti, chat e appunto siti web unstoppable.